amici di youtube ciao a tutti bentornati sul canale e benvenuti finalmente al video su origine perduta ebbene sì sono arrivati i kit pre-release ho qui sullo sfondo i kit pre-release che penso che aprirò domani oggi vado ad aprire le mie primissime otto bustine di origine perduta se volete acquistare questi kit per chi è di bolzani dintorni è possibile andare ad acquistarli al negozio la fenice riceverete per il prezzo di 25 euro un kit pre-release e due bustine di espansione di origine perduta a vostra scelta qui vedete otto bustine che ho scelto io casualmente speriamo di aver scelto bene fino a sabato potete ricevere il kit e le due bustine al prezzo di 25 euro bene direi che a questo punto apriamo sono curiosa ho scelto otto bustine due coppie di art set qui abbiamo zoro arc enamorus credo poi gardevoir e il nostro giratina che speriamo di trovare questa espansione non l'ho ancora vista quindi so solo che c'è questo giratina super ricercato che ci sono delle trainer gallery meravigliose vediamo andiamo ad aprire le bustine direi e vediamo che cosa contengono partiamo subito da giratina chissà se i codici sono tutti neri o se ci sono di nuovo i codici bianchi questo è nero vediamo e speriamo in bene energia stanfisk di galar non conosco nessuna carta so solo che è stata introdotta aspettate un attimo che vedo che non mette a fuoco ok so che è stata introdotta la dinamica della dell'area perduta che vabbè a me interessa relativamente comunque mi guarderò bene tutti gli addestramenti scatola del disastro sligo di sui snover jinx incai scowet falinsk stanfisk di galar reverse e per concludere un'arcanine oro iniziamo con una oro seconda bustina gardevoir codicino nero quindi a questo punto immagino che in questo caso saranno tutti neri e qui abbiamo energia portale miraggio maccioc fanni falinsk falinx poliwag gligar gumi ma while la reverse pompa danni e per concludere niente un'altra oro uno snorlax oro non abbiamo iniziato un granché bene vediamo se sono riuscita a scegliere tutte le bustine vuote come il mio solito e se dobbiamo sperare nella apertura dei kit niente ci risiamo coi codici bianchi quindi vabbè non voglio immaginarmi c'è anche il segnalino viastro c'è già tanto che ci sono le carte in questa bustina esperimento di acromio porigone 2 opps nel frattempo mi perdo anche le carte poi abbiamo uno swanna un zorua disui paras incai basculin disui un jinx una reverse beautyfly e niente e un manic trick normale niente fino adesso veramente non ci siamo andiamo con questa bustina la terza bustina non capisco oggi ho problemi anche con la messa a fuoco non si sa che cosa sta succedendo proviamo ad aprire questa bustina mi sembra che il video è abbastanza spigattiello un altro codice bianco veramente non lo so abbiamo iniziato questa espansione nel peggiore dei modi devo dire energia niente non capisco non mette a fuoco non so che cosa oggi l'iPhone è impazzito scusate faccio una pausa che vedo un attimo che problemi ha la messa a fuoco provo a ripartire ho dei seri problemi con la messa a fuoco gastrodon hunter poliwhirl pantump sadowoodoo electric loop disc gligar un cramorante reverse e per concludere un malamar niente queste prime quattro bustine non so come definirle cioè praticamente ho messo le mani nel box e ho scelto le peggiori cioè fino adesso non ci siamo proprio speriamo di trovare qualcosa in queste se no iniziamo con una sbustata abbastanza triste e mi tocca aprire i kit che però oggi non riuscirò ad aprire bene andiamo avanti allora energia komala spino bronzong lasciatemi un like di incoraggiamento perché tra il fuoco che non funziona e il contenuto delle bustine binacle porigon è veramente un video sfigato ducklet flip bag un finneon una reverse spinner rack e vabbè dai abbiamo un bordo nero abbiamo qualcosa e abbiamo ah dai un giratina v vabbè abbiamo trovato il nostro giratina normale però l'abbiamo trovato il nostro giratina v direi che allora lo sliviamo come sempre con la nostra perfect di sleeve my seal niente oggi proprio non ci siamo non ci siamo neanche con l'audio e chiaramente come sempre se volete acquistare le sleeves vi lascio il mio codice sconto mettiamo giratina sullo sfondo tutto giratinoso perché esiste solo giratina e andiamo ad aprire un'altra bustina qui abbiamo un altro codicino nero quindi vabbè almeno è nero e abbiamo energia maschera di panico belli questi addestramenti seadra raidon mi sembra che non è ancora fuoco non riesco a capire perché provo ad andare un po' più sullo sfondo poliwag oddish un growlite di sui licky tongue slugma una reverse confi e qua abbiamo qualcosa no niente un gengarolo niente neanche una trainer gallery fino adesso apriamoci un'altra bustina niente c'è non non so questa mattina il telefono ha deciso di abbandonarmi non so che problemi ci sono perché non vuole mettere a fuoco codicino bianco provo ad alzare l'illuminazione energie a fuoco niente ancora non mette a fuoco obo masnov città perduta carbink gligar rayon macrov orsea shellos una reverse mimikyu e per concludere un ariados normale molto bello però è normale e niente apriamo l'ultima bustina cioè devo dire che ste otto bustine non è che mi hanno un gran che soddisfatto me le sono scelte io vabbè codicino bianco quindi direi che concludiamo con il vuoto assoluto cioè penso che sia una delle sbustate più tristi degli ultimi mesi energia roseraid sligo di sui ancora non ci siamo anche il video è uno dei più tristi che ho fatto negli ultimi mesi electric un clay fiery ipum litwick spinarac roselia un silkun e per concludere un parasex vabbè allora che dire fatemi sapere aspettate che proviamo a mettere a fuoco fatemi sapere che cosa pensate lasciatemi un like di incoraggiamento perché veramente cioè la sbustata più triste niente cioè non ci siamo con sto fuoco oggi adesso dovrò capire anche che cosa il telefono direi che vi lascio con questa immagine di giratina V l'unica carta che ho trovato su otto bustine me le sono scelte io quindi non me la posso prendere con nessuno mando a tutti un abbraccione auguro a tutti una buonissima giornata se il buongiorno si vede dal mattino diciamo che non abbiamo iniziato nel migliore dei modi ci vediamo domani con l'apertura dei kit pre-release